buongiorno bambini oggi invece di leggere un libro vi voglio far vedere come si costruisce un bruco vi ricordate il bruco maesazio della fiabba che vi ho letto a scuola e della quale abbiamo fatto anche un bellissimo cartellone allora seguite tutti i passi uno dopo l'altro occorre della farina del sale e dell'acqua cominciamo ad impastare aggiungiamo il sale l'acqua dopo aver fatto l'impasto aggiungiamo della tempera verde e amalgamiamo molto bene facciamo quindi delle palline rotonde adesso prendiamo delle fascette di quelle che si usano per congelare i pacchetti e infiliamo le palline una ad uno a questo punto facciamo gli occhi ed ecco bambini pronto il nostro bruco maesazio di pasta di sale adesso provate a rifarlo voi a casa con le vostre mamme e le vostre sorelle se li avete e mi raccomando lavatevi le mani e ciao alla prossima volta